L'intuizione è il saper cogliere l'attimo giusto nel momento in cui si vanno a proporre determinate cose a persone molto speciali, saper cogliere l'occasione di far dimenticare che sono persone particolari e che sono persone più fragili, perché nel momento in cui vengono inseriti e inclusi in ambienti cosiddetti normali quasi quasi la diversità non si riconosce più e questa è una grande intuizione. Ripeto, l'associazione inoltre questa intuizione l'ha avuta da anni quando al suo nascere ha pensato all'integrazione delle persone disabili e soprattutto nel mondo dell'arte e della cultura. Sono Rosella Nicali, attuale presidente dell'associazione inoltre. Molto piacere di averla conosciuta, ci si vedrà presto.